Questa puntata di Giardino Valdichiana. Valdichiana, buonasera e bentornati qua all'interno dell'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile per una nuova puntata di Giardino Valdichiana. Questa sera parleremo di storia, storia del territorio, di personaggi storici che hanno vissuto nel nostro territorio, ma anche di musica, musica a 360 gradi. Spazieremo dall'opera lirica a come viene insegnata la musica alle nuove generazioni e a una banda. Parleremo di una banda, della banda storica del nostro territorio e forse anche la più numerosa, ma ce ne racconteranno meglio i protagonisti che ci verranno a trovare e vi abbiamo riservato anche qualche bella sorpresa oggi. E in più non può mancare il vino. Avremo un altro produttore di vino che ci racconta la storia della sua cantina che ci porta ad assergiare il suo prodotto e ovviamente non potrà mancare il brindisi. Allora, ma parliamo, come abbiamo detto, di storia e lo facciamo con una nostra cara amica, Lucia Tremiti, la presidente del laicato di Montepulciano e con Emanuela Limoni, insegnante e molto attiva tra le giovani generazioni della Valdichiana. Allora, buonasera, buonasera ragazze e benvenute qua all'interno dell'Enoliteca. Santa Agnese, il personaggio storico a cui mi riferivo è Santa Agnese, perché Santa Agnese, Agnese, oltre che essere una santa importante per tutto il territorio, è anche un personaggio, un personaggio, possiamo dire, che fa parte del nostro DNA, un personaggio che lega tutta la Valdichiana. Giusto, Lucia? Certamente. Allora, intanto ringrazio di cuore il Consorzio del Vino Nobile e voi tutti che ci avete invitato e ci avete dato questa opportunità, naturalmente porto il saluto del Vescovo Stefano, che in questo momento è con i malati della Regione Toscana a Lourdes, e chiaramente sono convinta che dopo di me verrà persona molto più qualificata, come padre Marco Baron, superiore della Casa di Montepulciano dei Domenicani, a parlare anche degli impegni del Giubileo di Sant'Agnese, perché Sant'Agnese è santa di Montepulciano, santa poliziana, secondo chiaramente le litanie dei Santi, quest'anno compie 700 anni, un compleanno super, perché sono passati 700 anni dalla sua salita al cielo. Certamente sono tanti gli impegni per tutte le età che ci accompagneranno fino alla fine di maggio del 2018, e la cosa più importante è che è possibile ottenere l'indulgenza nel santuario di Sant'Agnese, ma anche a distanza, nel mondo, attraverso determinate preghiere che devono essere recitate e dopo aver ascoltato una messa ha fatto i dovuti sacramenti come la confessione e la comunione. Chi è Sant'Agnese per noi? Sant'Agnese, dico, per noi ma anche per me. Per me è una persona di famiglia, famiglia perché l'ho sempre sentita molto vicina, sia per la mia famiglia dalla quale provengo, sia nell'ordine domenicano. Non è un personaggio antico, come molti possano pensare, ma è un personaggio presente, non soltanto nel nostro territorio. Mi viene da pensare, scusate se mi permetto di raccontarlo, a una ragazza buddista che quest'anno è venuta a Montepulciano e mi ha detto la sua esperienza. Lei l'ha sognata una notte, era in particolare di difficoltà perché era stata lasciata dal marito con dei bambini, non sapeva se tornare a casa, la casa era molto distante, chiaramente in Asia. doveva tornare e lei gli dice vieni da me che ti ascolto e questa ragazza gli dice ma io non so chi sei, ma io ti conosco da sempre. Ecco, questa è la nostra santa, una santa della nostra valdichiana, una santa che i suoi genitori erano contadini di Gracciano, una santa, come hai detto bene te, che è nel nostro DNA, una santa che comunque se la invochiamo non lascia nessuno delusi. Pensiamo che attualmente ha fatto grandi prodigi in America Latina, l'anno scorso ho conosciuto un cardiologo brasiliano che si sta impegnando a tradurre in portoghese la vita di Agnese per farla conoscere nel suo Brasile, lui, anche lui, è venuto a ringraziare perché la sua mamma si doveva operare al cuore e la sognarono che si toccava il petto, lui dice per scrupolo, rifece una visita e si accorse che c'era qualcosa che doveva essere tolto prima dell'operazione. Ora nel mondo ci sono anche tante persone che possono dire mi capita di sentire, di vedere, c'è anche tanti visionari. Naturalmente noi abbiamo una cartina di tornasole che ci dice che è verità e queste sono le tre cose che sempre tornano nella vita di Agnese e in chi benefica delle sue grazie. Intanto dicono tutti che l'hanno sognata. In realtà sarebbe una visione più che un sogno perché loro dicono io so che è lei. Poi lei si presenta attraverso il linguaggio ufficiale della Chiesa che sono le litanie dei Santi, dice sono Sant'Agnese Poliziana e qui casca all'asino perché queste persone ci dicono che vuol dire Poliziana, che siano di Canicattì, che siano di Aosta, dicono ma dove devo andare a ringraziare? Qualcuno dice so devo riandare dal mio prete che magari non mi vede dalla prima comunione a cercare che vuol dire Poliziana perché per distinguersi dall'Agnese romana decapitata sotto Diocleziano devono capire che Poliziana è la Santa di Montepulciano. E poi un altro aspetto che Agnese ha, e non ce lo dimentichiamo, questa mansuetudine. Nelle frasi che lei gli dà, che sono sempre personali, c'è sempre se vuoi, se devi, se credi, se proprio lo desideri. Una particolarità, quando annuncia delle mamme in attesa che diventeranno mamme, gli dice anche il sesso del bambino. Anticipa addirittura l'ecografia. È capitato tante, tante volte. Quindi una Santa veramente da... una Santa particolare dove molti, anche quelli che magari non la conoscono molto bene, come ci stai raccontando tu, si sentono legati. Come è legata a questa Santa Emanuela Limoni? Tu, oltre ad essere un'insegnante, hai anche condotto uno studio, un'iconografia agnesiana. Allora, vogliamo capire su che cosa ti sei concentrata e perché sei legata a questa Santa? Sì, buonasera a tutti. Io mi sono collegata a questo aspetto iconografico, anche devo ringraziare qui Paolo Giannini, il marito di Lucia, perché mi ha concesso di poter analizzare due lettere mignate che in realtà si trovano proprio in un codice conservato qui alla cancelleria della diocesi di Montepulciano. Grazie a questa leggenda che ha lasciato Beato Raimondo da capua che ha vissuto per alcuni anni dopo la morte di Sant'Agnese, proprio qui a Montepulciano. Questi due lettere mi hanno appassionato anche perché da lì ho tratto i simboli con cui la Santa viene rappresentata. Sant'Agnese è rappresentata con il suo abito dell'Ordine Domenicano, l'Ordine Domenicano fondato da Domenico di Guzman, il quale poi diventò santo nel 1234. la veste bianca e il mantello nero e ha in mano l'agnello, gli agnello appunto che indica questa mitezza della Santa di cui parlava anche Lucia, ma soprattutto Beato Raimondo fa anche un collegamento con il nome. Agnes che deriva da Agnus, agnello che poi si riferisce anche al nostro Signore, quindi l'agnello che viene portato al macello e poi perché Agnese rappresenta per me una tenerezza indescrivibile, proprio lei ha tenerezza in persona e più un altro simbolo è la crocetta, la croce con la quale viene rappresentata. La croce che fa riferimento ovviamente a questa crocefissione fatta Gesù per opera dei Romani, ma per noi cristiani è diventato un simbolo di salvezza. Un'altra opera a cui vorrei fare riferimento è un'immaginetta sacra che è attribuita alla scuola del Perugino. Detto così in realtà lui si chiamava Pietro Vannucci, uno degli esponenti del Primo Rinascimento. In questa immaginetta sacra è presente anche un altro simbolo che è quello del Giglio. Giglio, il re dei fiori, che però rappresenta proprio la purezza, il voto di castità. Esattamente questa è l'immagine dove si riporta all'agnello e il Giglio, appunto, simbolo di castità e anche di tutti quei sacrifici che Sant'Agnese appunto faceva per essere vicina al suo sposo. Quindi Sant'Agnese con questi simboli, l'agnella, la sposa di Cristo, con lei che era mite, che chiedeva sempre permesso. Ecco, questo è stato il mio, diciamo, il mio avvicinarmi a Sant'Agnese. E poi, vivendo in questo territorio, ho voluto fare altre ricerche. Ecco, ovviamente l'immaginetta dopo ve la postiamo nei commenti, la potete trovare tranquillamente all'interno del nostro giornale, così vi rendete conto meglio di quello che ha trovato e ha studiato la nostra Emanuela. Lucia, dicevo una santa molto legata al nostro territorio, non solo a Montepulciano, perché lei, Sant'Agnese, ha compiuto un miracolo anche nella nostra vicina Chianciano. E a Chianciano i miracoli ne ha fatti tanti. Qui siamo dentro l'Enoliteca, è un rigiro di parole del Consorzio. Si parla di vino, ma Chianciano è legato a Sant'Agnese per il concetto dell'acqua termale, perché lei andò a Chianciano nell'ultimo periodo della sua vita, si presuppone nel giugno del 316, malata in obbedienza ai superiori, che gli dissero di andare alle terme per cercare di sanare la sua malattia. In realtà lei dice io vado a Chianciano per gli altri e non per me. Una cosa particolare che capita a Chianciano, che è capitata spesso durante la vita di Sant'Agnese, è la caduta della manna, questo pane bianco a forma di crocettina che la ricoprì completamente tutta e ricoprì i bagni di Chianciano. E a Chianciano dissero ma siamo in estate, nevica in estate. Poi si accorsero che prendendo in mano questa manna e portandola alla bocca aveva il sapore di pane mieloso, tipico della manna degli ebrei che uscivano dall'Egitto guidati da Mosè. Infatti gli ebrei dissero Manu che cos'è? Perché anche loro non l'avevano mai vista. Chianciano, lei appena si bagna, oltre al fenomeno della manna scaturisce una sorgente nuova, una nuova polla, una nuova polla impreziosita dalla sua presenza. Ed è proprio in questa polla che tanta gente guarisce anche oggi da cose che la medicina ancora non è in grado di guarire. Spesso queste persone che si bagnano ai bagni di Chianciano non sanno niente di Sant'Agnese, è proprio qui la bellezza della cosa. Dopo vengono a conoscenza di Agnese e a Chianciano Agnese oltre a trasformare l'acqua in vino, sempre a proposito di vino, guarisce una bambina di Montepulciano che si era ferita al ginocchio tagliando il pane alla maniera dei grandi perché nell'epoca mediovale il pane era una pagnotta molto grande che tenevano sul ginocchio e affettavano solo i grandi. La bambina lo fece da sé ma si ferì gravemente e Agnese bagnando la bambina nelle acque di Chianciano la guarì. Dopo, negli anni che seguirono, siccome questa bambina diventò una laica domenicana come me quindi il mio gruppo è molto antico, probabilmente dei primi del 300, forse se non sono i primi del 300 ma il 1350 sicuro, senza mai che sia istinto. La bambina dice mi ha lasciato la cicatrice perché avevo fatto una cosa senza il permesso dei genitori. E poi a Chianciano ridona la vita a due bambini caduti nelle pozze di acqua termale. È stato importantissimo lo studio fatto dall'amico avvocato Alberto Fabri su come erano le terme nel 300 perché non si possono immaginare noi oggi le terme del 300 che erano molto in voga al tempo di Dante Alighieri. Poi lei è stata anche a Proceno, scusami Valentina vorrei dire due cose anche su questo bellissimo paese vicino ad Acquapendente gli amici di Proceno che sono molto devoti a Sant'Agnese, l'amano tantissimo e quando vado sempre persone mi vogliono raccontare di prodigi. Un signore molto anziano l'anno scorso mi disse che era ribaltato col trattore non so quante volte, signora non mi è mai caduto il cappello, non mi so fatto niente ma il cappello di paglia non mi è cascato nemmeno dalla testa. Però dico che avevi fatto prima? Ero andato in sagrestia a sistemare la statua di Sant'Agnese. Ecco spesso chi riceve dei prodigi da lei bisogna dirgli che hai fatto per lei. Altra cosa che voglio dire di Agnese che è bellissima è la profumazione del corpo. Tante persone vengono a Montepulciano e dicono che sentono profumo di fiori ma non ne vedono. In chiesa qualcuno anche ai ponti secchi. Ecco lei gli vuole dire quando si sente profumo di fiori ti sono vicina. Ecco la presenza di Agnese. non è un personaggio storico antico, non presente, è viva, è presente. E il balsamo che uscì dal suo corpo e la ricoprì al momento della morte è possibile vederlo anche ora perché il piede che alzò a Santa Caterina molti anni dopo che l'era morta nel vestito c'è una chiazza oleosa e tutti si può vedere. Quindi con gli occhi si può vedere a volte questi prodigi. Tante volte non le vogliamo vedere ma bisogna aprirli un pochino di più. E io penso che dopo questa spiegazione e ci hai fatto conoscere un po' di più Sant'Agnese molti poliziani ma anche molti abitanti della Valdichiana magari vedono sotto un altro aspetto questa santa così cara a tutti noi. Cara perché anche quest'anno ricorre appunto i 700 anni dalla sua morte e proprio per questo motivo sono state organizzate una serie di festeggiamenti. Emanuela brevemente ci vuoi un po' spiegare c'è una plus trat del mio studio di cui parlavo precedentemente. Poi il 10 giugno abbiamo fatto la prima passeggiata dell'amicizia partendo dalla chiesa di San Pietro lì ad Abbadia e attraversando la campagna arrivando alla casa proprio di Sant'Agnese dove è nata Sant'Agnese. Lì è stata offerta una merenda a tutti i ragazzi che hanno partecipato. In più il gruppo di animatori che io sto seguendo insieme a Don Maglio e ad altre persone e che ora sono in montagna abbiamo praticamente organizzato dei giochi. Un piccolo contributo è stato dato a un'associazione che si occupa di bambini con problemi di salute. Allora ci sarebbe da dire ancora tantissime altre cose. Già abbiamo conosciuto meglio questa questa importante santa per noi. Io ringrazio Lucia ed Emanuela che sono venuti qua a trovarci nell'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Io vi ringrazio ancora una volta. Rimanete ancora con voi perché noi vi portiamo a scoprire altri personaggi. Puntata ricca questa sera. Grazie a tutti e buona sera. Di nuovo qua ancora in diretta dall'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Vi abbiamo portato alla scoperta di un personaggio Sant'Agnese, un personaggio molto legato al territorio e ai suoi prodotti. E proprio parlando di prodotti ci è venuto a trovare un produttore di Montepulciano, un produttore di vino nobile. Lui è Luigi Frangiosa, proprietario della cantina dell'azienda agricola, la Ciarliana. Grazie Luigi di essere venuto qua a trovarci e noi ringraziamo voi del Consorzio che tutti i venerdì ci ospitate. Vi veniamo un po' a fare un po' di movimento in questa enoteca. Allora Luigi, la tua cantina si trova nel cuore delle colline poliziane. Allora, raccontaci un po' la storia di questa cantina, come è nata, come hai iniziato tu a produrre vino nobile? L'azienda è stata acquistata da mio nonno nel 1964. La mia è una famiglia di origine campana e negli anni 60 c'è stato questo esodo dalla Campania alla Toscana e la mia famiglia fa parte di questo. Mio nonno ha acquistato l'azienda, come dicevo, nel 1964. Sono nato l'anno dopo a Montepulciano, quindi mi sento poliziano. Sono stato concepito e nato a Montepulciano. Inizialmente l'azienda era un'azienda che aveva indirizzo zootecnico perché c'era l'allevamento di chianina, c'era un piccolo allevamento anche di maiali, quindi si producevano cereali e anche un po' di tabacco perché questo era un po' nel DNA della famiglia perché Benevento era una zona dove si produceva tabacco. Però già a fine anni 60, i primi anni 70, sono stati impiantati i primi vigneti specializzati per la produzione di vino nobile. Dopodiché io ho frequentato le scuole agrarie, sono periodo agrario, ho lavorato in varie aziende qui del comune di Montepulciano e nel 1996 ho deciso di iniziare a fare qualcosa di mio. Infatti il primo vino prodotto da me è il nobile del 1996 perché prima la mia famiglia vendeva le uve, vendeva le uve prima ai commercianti del nord e poi alle cantine che producevano vino nobile. Ho iniziato con 6.000 bottiglie di nobile e 3.000 di rosso e oggi ho 20 ettari di vigneto di cui 10 per produrre vino nobile, 3 di rosso e 7 acchianti. Sono abbastanza contento insomma dei risultati. Niente, io produco rosso di Montepulciano, produco vino nobile, un cru di vino nobile che è Vignascianello che è un vigneto, il mio vigneto migliore, è situato nella zona da Scianello e una piccola produzione di vinsanto che uscirà proprio quest'anno sul mercato e olio. Il nome dell'azienda, la Cialiana, è il nome della strada che è via della Cialiana e il nome della chiesa, c'è una chiesa che purtroppo sconsacrata sta cascando e da cui mi sono ispirato per il luogo dell'azienda. Ecco, qui ritorno un po' all'elemento religioso di cui abbiamo parlato nel primo blocco di trasmissione. La tua cantina si è organizzata in due livelli. Raccontaci nella parte sotterranea cosa possiamo trovare, nella parte superiore e se è possibile poterla visitare. Allora, la mia cantina c'è la parte superiore dove c'è una zona ricettiva dove si possono fare degustazioni su prenotazione, posso ricevere gruppi fino a 50 persone, è aperta tutti i giorni, mentre la parte inferiore c'è nella parte più esterna, c'è il locale di vinificazione, nella parte interrata c'è il locale di invecchiamento. È una cantina relativamente nuova, l'ho costruita nel 2002, inizialmente ho iniziato sotto casa con una piccola cantina che avevo ricavato sotto casa, poi le cose sono andate bene, ho costruito questa cantina che ahimè oggi è già insufficiente, infatti c'è il progetto di fare un ampliamento, un ampliamento della cantina. Quindi un ampliamento e quindi una produzione in continua crescita lo dimostra anche il fatto che hai cominciato a fare Vinsanto. Sì, Vinsanto è stato un po' una... purtroppo nel Vinsanto c'è un'esperienza lunga, cioè se commetti un errore oggi te ne accorgi dopo sei anni, quindi prima di... esco ora con il Vinsanto perché sono riuscito con le varie prove a fare un Vinsanto che mi piaceva. Il primo Vinsanto è l'annata 2007 che ho deciso di farlo uscire ora. Prima tu producevi anche le grappe, giusto? Sì, ho fatto una... nel 2007 ho prodotto... ho fatto distillare le mie minacce da una distilleria in Piemonte a un sistema di distillazione che mi piaceva, solo che però è un problema burocratico, cioè per vendere la grappa ci sono tutta una serie di problemi che ho deciso di abbandonare perché la burocrazia è veramente... ci soffoca un po'. Senti Luigi, molti produttori, viticoltori sono un po' preoccupati dall'annata perché quest'anno comunque non è un'annata semplice, c'è stata la gelata ad aprile, questa siccità, quindi cosa prospetta la tua vendemmia? Come potrà essere la vendemmia 2017? La vendemmia 2017 credo che possa somigliare un po' a quella del 2003 e sarà sicuramente una vendemmia anticipata perché i primi chicchi di San Giovese invaiati li ho trovati intorno all'8-9 di luglio, quindi è veramente un fatto eccezionale perché siamo abituati a avere i primi chicchi invaiati fine luglio, primi d'agosto, quindi è veramente una cosa... I presupposti sono sicuramente di un'annata sicuramente ricca, avremo delle gradazioni importanti che però insomma se è come il 2003 non è andata poi così male perché io ho rimesso in commercio una partita di vino del 2003 che è fantastico, quindi i presupposti sono di un'ottima annata. Rimaniamo a parlare delle annate, c'è un'annata in particolare che ti ha dato maggiori soddisfazioni rispetto alle altre. Ma credo per il San Giovese, io sono un produttore che mi piace lavorare molto con i vitigni autoctoni, quindi secondo me il 2001 è stata l'annata migliore, sicuramente per il 2001 è stata un'annata fantastica per il San Giovese. Noi ci troviamo all'interno di questa bellissima enoliteca, una struttura che voi produttori avete fortemente voluto per promuovere il vino ma per promuovere anche il territorio. Sta dando i suoi frutti e ovviamente anche il vino nobile. C'è ancora però qualcosa da migliorare secondo il tuo punto di vista? C'è qualcos'altro da fare? Ma questa è la nostra casa, è la casa che ci siamo fatti tutti noi produttori di vino e questo è già una tradizione che abbiamo iniziato con la ristrutturazione del Pozzo del Grifo e dei Leoni, quindi noi produttori di vino ci sentiamo molto legati al territorio, anche perché il nostro vino, se è così famoso e conosciuto, ma più che altro è grazie a chi ci ha preceduto, quindi ci sentiamo questo peso di mantenere e consegnare alle generazioni future le bellezze di Montepulciano magari anche migliorate. Allora io di solito nelle mie interviste le concludo sempre con un brindisi, però non è un brindisi semplice, è un brindisi dove tu mi dovrai dire come definiresti il tuo vino in tre parole, quali sono le caratteristiche che un degustatore può sentire immediatamente, subito e immediatamente dopo a quanto beve il tuo vino. Proviamo? Cin cin. Io lo definirei è un vino elegante, profumato e intenso. Allora ti ringrazio Luigi per esserci venuto qua a trovare nel nostro giardino Valdichiana e io vi dico di aspettare lì perché ancora dopo continueremo a parlare di territorio, musica e vino. Grazie ancora e grazie ancora di ospitarci qua tutti i venerdì, grazie davvero. Buonasera. Eccoci di nuovo qua ancora in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Abbiamo cambiato ospite e si è aggiunto un bicchiere di vino in più e sono venuti a trovarci due protagonisti del cantiere internazionale d'arte, il maestro Alessio Tiezzi e il compositore lirico tedesco il maestro Glanert. Benvenuti a tutti e due, a entrambi e grazie di essere venuti qua alle nostre interviste a Giardino Valdichiana. Allora, il maestro Glanert si è esibito mercoledì scorso nel fantastico scenario del Tempio di San Biagio ricevendo una grandissima standing ovation. Come sta andando il cantiere e che esperienza è? Perché ovviamente tu sei stato anche direttore artistico del cantiere. Raccontaci l'esperienza però che stai vivendo in questo momento. Secondo me è stato bellissimo perché ha cominciato con un'esplosione creativa della gente del luogo con l'opera di Salieri dove era convolto il corale puliziana, l'orchestra puliziana e anche c'erano otto solisti in palco se sono in formato giusto, se hanno dibuttato in palco di Firenze. E questo è proprio il nucleo dell'idea del festival come voleva Hans, così tutti i sogni diventano realtà. Alessio, anche tu ti sei esibito molte volte all'interno di questa edizione del cantiere. L'ultima in ordine di tempo è quella della corale puliziana con la Carmine Burana. Che esperienza è stata e quali altri appuntamenti abbiamo in servo? Senza svelare troppo però, eh? Sì, ormai siamo quasi alla fine quindi non è che manca tantissimo. Ci tengo a ricordare che questa sera al Galà della Danza il nostro insegnante Davide Vannuccini con la collaborazione dei nostri tre insegnanti che sonneranno dal vivo ha creato e sentiremo la musica che ha fatto apposta per uno dei due balletti che andranno in scena e che credo che sia veramente valga la pena ascoltare perché è veramente molto interessante. Ho seguito le operazioni, ho sentito ieri la generale ed è veramente una musica molto efficace che sicuramente sarà molto suggestiva in piazza e quindi vi invito tutti a venire. Abbiamo fatto vari concerti il nostro istituto naturalmente è all'interno del cantiere e lavora praticamente su quasi tutti gli appuntamenti abbiamo debuttato appunto il, come diceva il maestro all'inizio del cantiere con l'opera Il mondo alla rovescia è stata una bellissima sfida che credo che possiamo dire di aver vinto perché abbiamo portato la nostra orchestra formata tutta da poliziani e per esempio fra gli archi non c'era nemmeno un diplomato quindi un professionista quindi un'orchestra che possiamo dire anche di amatori che però ha venduto cara la pelle e che ha portato a casa un grande risultato e secondo me possiamo essere tutti veramente molto soddisfatti ringrazio per questo il maestro Glanert che ci sostiene da sempre che è molto vicino a noi, all'istituto e naturalmente il direttore artistico Roland Boyer Allora maestro, tu sei molto legato alla figura di Hans ricordo la prima volta, forse una delle prime volte con cui tu hai collaborato con lui e è quella della Biennale di Monaco dove tu hai composto un brano per aprire la serata poi sempre su Seguendo Hans sei stato direttore della Scuola di Musica dal 1989 al 1993 mentre adesso l'attuale direttore è Alessio Tietzi quindi è un po' una staffetta tra voi due che ricordo hai di Hans e che esperienza è stata quella di fare il direttore della Scuola di Musica? Hans è stata una persona che stava sempre molto vicino ai suoi studenti anche privatamente si preoccupava dei nostri diciamo delitti, difetti che abbiamo anche problemi della vita sociale e lui ha aiutato soprattutto per dare rappresentazioni la possibilità di ascoltare la musica che abbiamo scritto dicendo sempre che un compositore ha solo un insegnante e questo è se stesso con l'autocritica è successo che io vivevo in Istanbul arrivava una telefonata con una linea peggiore dove c'era Hans chiedendo se aiuto un'estate a Montepulciano in 1989 e ho detto di sì e dopo questa estate lui mi ha chiesto insieme con Luciano Garrosi se siamo pronti di riorganizzare l'istituto di musica che aveva in questo tempo una trentina di allievi o così questo è stato molto molto buffo perché abbiamo fatto tutto questo solo parlato non c'era un contratto scritto lui ha dato 50 milioni e ha detto va bene dobbiamo fare i conti precisi e dobbiamo avere successo questa è l'unica condizione così abbiamo cominciato che successo c'è stato sì ci vuole tante generazioni e si deve capire che l'istituto di musica ogni anno perde i migliori studenti che vanno alle università che vanno ad un'altra parte alle grandi città e di far crescere il livello con questo cambiamento che è costantemente si perde i più buoni e fa alzare il livello questo è un lavorone con il mio più grande rispetto a tutti i due direttori che è fantastico un lavoro che lo sta portando avanti Alessio Tiezzi quindi una cura maggiore per i ragazzi per i giovani alunni quanti sono attualmente gli alunni della scuola di musica e quali sono le collaborazioni tra la scuola di musica e il territorio? sì abbiamo chiuso l'anno con dei buonissimi numeri perché credo che abbiamo raggiunto un picco forse mai raggiunto di quasi 400 allievi e quindi siamo veramente molto soddisfatti e proprio come diceva il maestro puntiamo molto sul ricambio generazionale anche riabbassando un po' l'età dei principianti perché riusciamo con degli insegnanti preparati proprio per i bambini più piccoli riusciamo a introdurre alla musica già bambini da 4-5 anni e questo chiaramente aumenta sia il bacino che anche la possibilità di alzare il livello la scuola in questo momento sta andando bene è chiaro che è sempre una sfida e soprattutto è sempre importante stare allerta e rinverdire come diceva il maestro perché è proprio così purtroppo anche i migliori tutti gli allievi comunque se ne vanno ad un certo punto anche se noi abbiamo una longevità penso rarissima io stesso ho degli allievi da 12 anni una cosa che penso anche molto particolare e quindi niente come dicevi abbiamo tante collaborazioni lavoriamo sulla propedeutica soprattutto in tutte le scuole del comune è quello che credo che sia la cosa forse più importante tra l'altro abbiamo in Serbo anche dei nuovi progetti penso che riusciremo ad ottobre a partire anche con delle nuove situazioni di pratica strumentale proprio alle scuole elementari che in questo momento è solo in alcune scuole e forse riusciamo ad allargarla a tutte le scuole del territorio del comune maestro tu sei famoso in tutto il mondo sei famoso, sì diciamo è vero sei famoso in tutto il mondo e ricevi tanto successo in tutte le parti dove tu ti esibisci compositore lirico ci sono delle criticità se tu dovessi dare dei consigli ad un ragazzo che si avvicina a diventare un compositore lirico che cosa gli consiglieresti di fare? va bene io non faccio solo lirica anche orchestra anche musica da camera ma non c'è un consiglio che si fa perché si deve conoscere la persona il carattere, come sono i problemi anche la vista del mondo queste sono le cose che si discute alla composizione poi c'è la tecnica anche abbiamo fatto anche una bellissima cosa qui io ho tenuto un seminario e sono stato chiesto per un gruppo di giovani poliziani strumentalisti che sono molto curiosi alla musica moderna e faranno anche un concerto a sabato studiando i più complicati brani gli scelsi di Sciarino di Solbiati in questo piccolo seminario io ho fatto anche loro di comporre per conoscere il mondo dall'altro lato così si trovavano in una situazione scomoda ma io volevo questo perché quando si vede il mondo dall'altra parte si dà più luce all'oggetto e questo spero era stata un'esperienza interessante per loro Alessio il maestro ha parlato di questi 30 ragazzi che sono qua a Montepulciano perché fanno parte di un progetto ovvero Camere Contemporanea un progetto di ragazzi under 35 ce ne vuoi parlare di più anche perché poi loro chiuderanno questa edizione del Cantiare Internazionale d'Arte Sì sono in realtà sei ragazzi che appunto hanno partecipato a delle audizioni per cui hanno poi superato e abbiamo formato questo ensemble che si preoccupa e si occupa di un approfondimento della musica contemporanea è un bando sia e che grazie alla struttura della fondazione siamo riusciti a vincere con pieni titoli e quindi è anche un motivo d'orgoglio per noi ma anche di grande felicità perché sicuramente la fondazione Cantiere il Cantiere Montepulciano è uno dei posti migliori dove poter affrontare questo tipo di di esperienza e questo tipo di repertorio sono sei strumentisti differenti e suoneranno il 30 di luglio domenica alle ore 18 qui in fortezza e appunto come diceva il maestro faranno vari autori in questo momento stanno studiando e preparando il loro repertorio con Marco Angius che è praticamente il direttore di riferimento in Italia e non solo per quanto riguarda la musica contemporanea hanno fatto un seminario con il maestro Glanert che è stato veramente molto bello e che li ha stimolati tantissimo sono rimasti molto soddisfatti e hanno anche ancora altre esperienze già altre esperienze fatte e altre da fare è un gruppo che in pratica si costituisce per poi fare dei concerti e andare da soli un po' nel mondo di quello che è la musica che non è così disperato come a volte si vuole raccontare che forse se le cose si fanno bene si lavora bene poi c'è modo anche di lavorare e voi siete la dimostrazione di questo allora maestro tu sei venuto spesso vieni spesso a Montepulciano c'è un ricordo particolare che lega che hai tu nel tuo cuore che lega a Montepulciano la musica la cultura e il vino ci sono sicuramente i primi anni che erano i più intensi la magica dell'inizio questo inizio è stato bagnato in fiume di vino questo mi ricordo di sicuro era il tempo quando il parco della fortezza era aperto tutta la notte così quasi tutte le prove notturno finiscivano là fino al sole fino all'alba fino all'alba sì poi c'è sempre da insegnare anche a tutti i visitanti inglesi orchestra inglesi per esempio francesi che il vino in carta è male si va per comprare lo sfuso va male va male è una schifezza anche questo tipo di insegnamento abbiamo fatto per tanti anni Alessio invece il tuo ricordo personale non solo del cantiere ma in tutta la tua carriera ma io posso solo dire che appunto ho girato abbastanza nei primi anni in cui facevo attività concertistica musicale in genere e se mi sono fermato a Montepulciano probabilmente non è solo per l'ambiente musicale ma anche per per il vino allora noi questa sera per ringraziarti di essere qua e di essere soprattutto a Montepulciano c'è anche per te Alessio il vino ti omaggiamo di questo brindisi e grazie a entrambi di essere venuti qua a trovarci brindiamo possiamo brindare veramente non è solo una finta voi rimanete lì perché ancora la trasmissione non è finita abbiamo un altro degli altri musicisti da presentarvi e una sorpresa quindi non andate via cin cin ed eccola qua la sorpresa di cui vi ho vi ho parlato in apertura della nostra della nostra quarta puntata vi ho detto che parlavamo di musica di musica a 360 gradi ci sono venuti a trovare il maestro Alessio Tiazzi e il maestro Glanert e adesso siamo con una banda la banda forse la più storica del nostro territorio è quella con maggiore elementi loro sono alcuni componenti della folkloristica band di Bettolle nata nel 1859 quindi una storia lunghissima e per raccontarci la storia di questa banda come quanti strumentistici sono e ovviamente della banda fa parte anche un bel gruppo di maggiorette ci è venuta a trovare Lorella Fanotti grazie e benvenuta Andrea Sonnati il capo banda ed Esther Posani capo maggiorette allora Lorella ho detto una banda nata nel 1859 la banda è possiamo dire un elemento della nostra tradizione perché non c'è paese dove non ci sia una banda all'inizio la banda era un po' un modo solenne militare mentre con gli anni si è andato un po' cambiando la sua denotazione e è stato un momento di allegria di spensieratezza ma raccontiamo la storia della banda di Bettolle come hai detto te è nata nel 1859 purtroppo la sede storica della banda ci fu un incendio e quindi molta documentazione anzi tutta la documentazione è stata persa quindi per noi non è facile ricostruire un po' tutta la storia io anni fa ci ho provato in biblioteca andai in biblioteca a Sinalunga e con i diari dell'Agnolucci trovai alcuni documenti per esempio un fatto curioso è che la banda di Bettolle era ad accogliere Garibaldi quando venne a Sinalunga che poi fu arrestato e questo è un po' il momento storico che siamo riusciti a ricostruire abbiamo trovato in casa di non so chi Bettolino che ci ha mandato una fotocopia un invito a un'assemblea per costituire la banda anche questo è datato a fine dell'anno del 1800 e quindi la banda come tutte le bande come dicevi prima te appunto era una banda classica Bettolle ha saputo chi ci ha preceduto e noi abbiamo continuato ad avere sempre un occhio al passato però uno al futuro quindi ci è piaciuto sempre guardare guardarci intorno e proporre delle cose nuove quindi già negli anni settanta furono introdotto appunto il corpo delle maggiorette prima c'era solo una ragazza che portava al labaro e poi dopo piano piano fu costituito un piccolo gruppo fino ad oggi insomma che ancora riusciamo a mantenere un discreto e una discreta gruppo di maggiorette e non è vi garantisco che non è semplice che non è semplice poi dopo negli anni 2000 abbiamo puntato sulle percussioni siamo stati a suonare diverse volte nella costa azzurra a Menton a Canne e quindi abbiamo avuto la fortuna di vedere i gruppi europei le show band europee e quindi si è un po' un po' copiato e abbiamo introdotto il gruppo delle percussioni che ha dato veramente quella marcia in più alla banda già avevamo nel passato e ora è ritornato con noi il maestro dell'avanzato che è un bravissimo arrangiatore quindi noi riusciamo sempre a suonare l'ultimo pezzo che si senta la radio insomma quello più nuovo insomma metterci questo gruppo di percussionisti abbiamo studiato dei carretti che ci permettono di portare dietro le batterie quindi non il semplice rullante ma abbiamo proprio la batteria abbiamo i bonghi timbales e questo dà quella marcia veramente in più e anche se noi siamo appunto tutti volontari quindi lo facciamo proprio per piacere dell'applauso ti assicuro Valentina poi te lo saprà dire anche qualche d'uno della tua famiglia penso perché il nonno di Valentina suona con noi è uno dei veterani dei veterani e vedere la gente che mentre passi balla che gli si muove i piedi insomma ti assicuro che è piacevole l'ultima novità sono state le color guard anche lì l'abbiamo appunto viste dalle bande del nord Europa che appunto le marching band che avevano questo gruppo sia di uomini che di donne con le bandiere e quindi ci è piaciuto provarci e abbiamo unito anche all'aspetto spettacolo anche l'aspetto sociale che io ci insisto sempre molto la banda come momento aggregante nel territorio specialmente nei nostri paesi dove non c'è un teatro dove non c'è più un cinema e quindi è un momento aggregante forte quello della banda e niente mentre chi suona io suono sempre anche se ho passato i 50 è normale la maggioretta a 50 anni è un po' più difficile con le color guard siamo riuscite a recuperare a riportare con noi delle maggiorette storiche che per tanti anni facevano parte del nostro gruppo e che non riuscivano più a trovare una collocazione ma che si dice che la banda è una famiglia e come in tutte le famiglie ci capita di discutere perché no però è il collante forte e questo io ne sono molto orgogliosa insomma di essere riuscita io insomma io con gli altri insomma quelli che appunto ci impegniamo in prima persona a essere veramente questo collante a Bettole e non solo a Bettole perché con noi suonano tantissime persone di fuori Andrea di Farneta abbiamo dei ragazzi di Castiglion Fiorentino di Foiano del Pozzo e le ragazzine lo stesso vengono da tutta la Val di Chiana e questo è un motivo d'orgoglio per noi davvero quindi non solo una banda ma anche un momento di aggregazione e un momento che dove si uniscono tutti i territori della Val di Chiana Lorella ha un po' anticipato il fatto che sì effettivamente io in famiglia ho un musicante e una maggiorette quindi questa sera non ho voluto far mancare niente nella nostra intervista e proprio parlando rimanendo sul tema delle maggiorette abbiamo qua Esther Posani la capo mazziera capo maggiorette allora parlaci un po' del gruppo di cui tu fai parte che guidi e la difficoltà di girare la mazza che ovviamente ti chiederò anche di maneggiarla buonasera a tutti riprendendo il discorso che diceva Lorella l'importanza di questo gruppo è il collante che ci tiene tutti insieme e questo è uno dei miei obiettivi principali da mantenere in alto tra tutte le maggiorette perché noi nasciamo come maggiorette a scopo folkloristico quindi non siamo le classiche maggiorette che si esercitano si allenano per fare lanci di twirling o addirittura gare a livello agonistico lo facciamo per stare insieme quindi divertendoci io faccio parte del gruppo praticamente da 22 anni ne ho quasi 23 quindi ci sono nata e all'età di 18 anni sono diventata sono diventata capo mazziera o capitana delle maggiorette e appunto noi facciamo le prove gli nostri allenamenti sono tutti mercoledì sera nella nostra sede alle 21 e 30 e questo è per ricordare che ci siamo sempre e che aspettiamo con ansia anche altre ragazze per poter continuare a fare quello che stiamo facendo perché l'età va da 6 ai 30 anni ma a 30 anni ci sono i ragazzi che si sposano chi è incinta quindi dobbiamo anche un attimino avere questo ricambio generazionale e ci stiamo puntando un sacco che altro noi accompagniamo la banda e siamo sempre diciamo che non ci scogliamo mai dal nostro dal nostro punto forte perché riusciamo realizziamo le nostre coreografie solo ed esclusivamente sui brani che sono scritti dal nostro maestro e sono eseguiti dalla banda quindi per noi la cosa più importante oltre al fatto di essere un bel gruppo vivo e appassionato la cosa su cui ci vantiamo un sacco è che siamo maggiorette della banda di bettole della folcloristica band e questo è un motivo di orgoglio grazie allora io a questo punto ci devi dimostrare come si usa la mazza e quali sono anche le difficoltà perché non è semplice io ti tengo il microfono volevo fare una piccola introduzione questo si chiama bastone dal francese baton e il twirling è la disciplina che appunto posso è la disciplina del 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 saper girare la mazza dal verbo to twirl in inglese quindi la cosa più semplice è la figura otto quindi con la mazza disegniamo un otto e è la figura base ovviamente ci sono varie varie interpretazioni può essere anche in avanti può essere orizzontale può essere orizzontale rovescio può essere possiamo fare dei lanci ora mi sembra abbastanza ristretta sembra abbastanza ristretta però ecco possiamo girare la mazza in mille modi possiamo girarla tra le dita oppla e e tutto questo lo facciamo mentre marciamo e accompagniamo il movimento della mazza con il movimento del corpo che è molto importante altrimenti non è sarebbe solo una marcia quanto tempo ci vuole per arrivare al tuo livello ti direi 22 anni incoraggiamo chi vuole diventare maggiore in realtà no ci vuole ci alleniamo appunto tutti i mercoledì e un po' di tempo ci vuole dipende ovviamente anche dalle capacità ci sono le bambine molto piccole dalle quali non puoi pretendere assolutamente un livello avanzato ma ci sono bambine che si impegnano e che vogliono assolutamente arrivare ai livelli più alti e quindi entrare nel gruppo avanzato delle maggiorette quindi diciamo che in media ci vuole un annetto per raggiungere un livello abbastanza buono discreto da le maggiorette passiamo ai musicisti qua abbiamo Andrea Sonnati colui che ha aperto il nostro ultimo blocco di trasmissione con il trombone da quanto tempo fai parte della banda di Bettolle perché hai deciso di entrare nella banda e perché hai deciso di suonare il trombone allora io innanzitutto suono da quando avevo circa 7-8 anni e ho iniziato nella banda di Farneta perché come diceva Lorella non sono di Bettolle ma sono di Farneta che è un paese del comune di Cortona poi andando in giro la domenica a vedere qualche festa mi capitò un giorno di sentire la maggiolata la banda di Bettolle e rimasi innamorato di questa banda perché oltre ad avere un ritmo diverso a tutte le altre aveva anche degli strumenti diversi mi rimase molto impresso la batteria le percussioni e il trombone perché io non suonavo il trombone quindi successe che mi misi in contatto con il marito di Lorella e mi fece andare una sera alla prova devo dire che la prima sera alla prova feci sia no due o tre note quindi tornai a casa che ero abbastanza demoralizzato poi fin tanto che quando finì 18 anni mi regalarono i miei amici questo strumento il trombone andai a scuola dal maestro attuale della banda di Bettolle che è il maestro dell'avanzato e da lì poi è nato tutto da lì con lo studio l'impegno eccetera ho cominciato a suonare diciamo a un livello un po' più alto rispetto di quello con cui avevo iniziato fin tanto che quando avevo 25-26 anni sono diventato capobanda ma all'inizio mai o poi mai dopo la prima prova avrei pensato che un giorno sarei diventato capobanda e invece è successo e a oggi ne sono orgoglioso perché alla fine ti insegna anche tante cose che puoi rimettere in pratica nella vita devi ascoltare le persone più anziane che sono in banda devi prendere consiglio spunto devi dare la voglia ai più giovani di venire in banda di divertirsi e quindi sono tutti insegnamenti che puoi anche riversare nella vita di tutti i giorni perché alla fine la banda è composta da circa 100 persone fra maggiorette musicanti persone che accompagnano la banda e devi star bene con tutti questa è la cosa più difficile ma allo stesso tempo più bella senti qual è il repertorio musicale della banda di Bettolle? il repertorio musicale della banda di Bettolle è un repertorio diciamo tra virgolette commerciale ovvero spaziamo da brani di cantatori come Rino Gaetano Stevie Wonder Zucchero facciamo pezzi come YMCA Hot Stuff facciamo pezzi che si sentono come diceva Lorella alla radio e quindi le riproponiamo come novità e questo è più o meno il repertorio della banda di Bettolle Lorella Andrea ha un po' introdotto un argomento importante e bello quello delle nuove generazioni che fanno parte del vostro gruppo non solo vengono con voi in banda ma voi avete anche proprio un vivaio avete proprio una scuola di musica se si può chiamare così dove i bambini imparano a suonare uno strumento e tu durante prima ci stavamo preparando le interviste mi hai detto voglio parlare molto di questo aspetto perché è una cosa importante rimarcata dal fatto che la banda è anche un momento aggregativo ti cito una frase di un articolo che ho letto è piuttosto datato ma le cose semmai sono peggiorate non sono migliorate del maestro Muti dove disse appunto che la banda è il panda è il panda della musica ma no è il panda proprio perché è una realtà che purtroppo è in via di estinzione e che non è aiutata da nessuno e lo stesso cioè questo articolo mi sembra era del 2002 ma le cose semmai sono peggiorate perché le bande non le aiuta più nessuno non c'è nessun tipo di aiuto noi l'unico aiuto che abbiamo è il 30 ore mi sembra ma forse ne ho dette troppe che riusciamo a fare alle elementari con il patrocinio del comune di Sinalunga poi dopo tutto il resto è alla generosità di chi c'è vicino e la scuola di musica appunto è un tasto dolente perché come appunto è il panda per gli aiuti per la considerazione che hanno chi ha la nostra politica delle bande anno scorso era stato fatto un decreto dove c'era il 2 per 1000 che si poteva dare alla cultura un anno è durata che non so neanche come quello che ci avrà che ci avrà portato poi è finita quindi non lo so se vogliono che finiscono queste cose e appunto ti dicevo della scuola di musica noi abbiamo cercato da tanti anni che c'è la scuola e l'affidiamo a degli insegnanti professionisti a dei maestri che sono diplomati al conservatorio ne abbiamo tre uno per le ance uno per gli ottoni e uno per le percussioni che sono il maestro Marco Piattelli la maestra Chiara Luccherini e il maestro Davide Cappelletti noi abbiamo cercato sempre di fare un prezzo tra virgolette politico perché non pesi troppo perché sia appunto anche di incentivo affinché i bambini i bambini e gli adulti perché la nostra scuola è aperta anche agli adulti e ti dirò a Valentina che abbiamo delle persone che hanno cominciato a studiare musica con i figli testare e la banda dico io è una delle poche cose che riusciamo a fare in una famiglia tutti insieme io il mio marito l'ho conosciuto in banda poi i miei tre figli sono venuti in banda ora un po' chi si sono persi per la strada ma insomma ancora ci sono e lo stesso vale per Esther per Esther anche appunto anche lei c'è il babbo il babbo di Esther è il presidente Marco Posani la mamma e la sorella e quindi io dico se a chi ci ascolta se vi piace vedere le bande la nostra come le altre per le vie dei nostri paesi a fare un concerto a fare una sfilata avvicinate i vostri figlioli alle bande alla musica perché appunto la banda è un ambiente sano che come diceva prima Andrea stiamo insieme persone di età diverse di cultura diversa e c'è un confronto continuo e poi appunto dico io la musica è un'amica un po' ingrata all'inizio perché è difficile cioè cominci col solfeggio prendi in mano uno strumento non subito come diceva Esther della mazza non subito sa il risultato tangibile però poi ti accompagna tutta la vita io ho più di 50 anni ho iniziato a suonare che ne avevo 7 e mi ricordo che lo strumento non lo pesavo quindi il clarino non tappavo buchi allora mi dettero il soprano con tutti i lacci per alleggerirmi il peso e quanti anni sono passati ancora sono qui è una ricchezza che abbiamo allora Esther tu intanto preparati perché richiudiamo con eh ormai ci abbiamo preso gusto eh ormai un ricordo tuo personale legato alla banda perché come ha detto lei comunque hai babbo mamma in banda sorella un tuo ricordo personale e ovviamente anche te preparati perché mentre lui suona tu eh ragazzi siete capitati nel blocco finale quindi però prima un ricordo tuo personale legato alla banda di Bettolle allora di ricordi personali che riguardano la banda ne ho moltissimi perché appunto ci sono cresciuta eh il ricordo più bello perché adesso da Capomazziera è un'enorme soddisfazione poter guidare questo gruppo e vedere le ragazze che sono soddisfatte del lavoro che fanno e io sono soddisfatta a mia volta ma il il ricordo più bello che io era quando ero piccolina e io con la figlia di Lorella e altre amiche eravamo le mascotte perché non eravamo in grado di fare nessun tipo di movimento di twirling perché troppo piccole però ci divertivamo a stare a stare con i nostri genitori con le nostre amiche il ricordo più bello appunto è questo mentre la banda sfilava noi piccoline che camminavamo fino alla Capomazziera e poi ritornavano ritornavano indietro e venivano rispedite dai genitori e questo era un ricordo legato appunto al divertimento alla spensieratezza e è quello che ci fa piacere e vogliamo trasmettere anche appunto alle nuove generazioni nuove maggiorette nuovi musicisti grazie grazie veramente a tutti voi di essere venuti qua a trovarci so che vi ho fatto correre e questo vi ringrazio ancora di più ringrazio Andrea Lorella ed Esther allora io mi alzerei anche tu credo che ti dovrai alzare io vi do appuntamento do venerdì prossimo qua sempre dall'Inoliteca del Consorzio del Vino Nobile con la quinta puntata di Giardino Valdichiana tanti personaggi tante sorprese rimanete con noi e ovviamente seguite la Valdichiana.it grazie a tutti e a loro la scena